Siamo su Crazy Night sotto la pioggia Ale! 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 Oh Luca! Luca! Gli ho riuscito qua sotto intanto E' arrivato un temporale di quelli incredibili E questi, ecco cosa sta succedendo in questo momento Ce l'abbiamo fatta Gli ombrelli, abbiamo Luca E non vuoi che li cuocio io? Ce li cuociamo noi Ecco vai!